amici fai da te oggi andremo a vedere come risolvere uno dei più classici problemi che possiamo trovare in bagno il rubinetto che spruzza un po' da tutte le parti apriamo l'acqua e ci troviamo praticamente bagnato vedete che in questo caso ci sono spruzzi un po' ovunque è una cosa anche un po' fastidiosa perché ci troviamo sempre a dover andare a pulire cosa è successo in buona sostanza una cosa molto semplice molto probabilmente nel nostro comune di residenza hanno fatto dei lavori sulla rete idrica nelle tubature entrata della terra e la terra piano piano è arrivata qui nel filtro del rubinetto quindi grazie a una chiave a pappagallo andremo a smontare questo piccolo filtro ripulirlo e poi tornerà tutto come prima adesso state con me che andiamo a vedere come fare bene prendiamo il filtro sotto con la pinza pappagallo e ricordiamoci di girare in questo caso in senso orario certe volte basta un mezzo giro certe volte bisogna farne un paio e poi vedremo che scende poi lo possiamo svitare anche con la mano vedete adesso scende e andiamo a ripulire tutto lo sporco che ci sarà vedete alla fine è già sceso guardate eccolo qua vedete che c'è questi sono dei piccoli pezzi di terra andiamo a ripulirlo bene una volta che l'abbiamo ripulito possiamo andare a montarlo non c'era tantissima roba però questo che noi vediamo eccolo possiamo pulire con un getto forte di acqua se c'è tanta incrostazione dovuta al calcare meglio fargli fare una notte nell'aceto può essere anche il calcare il motivo per cui il nostro rubinetto non funziona bene e spruzza da tutte le parti in genere può essere quello oppure appunto un lavoro che è stato fatto sulla tubatura una volta che abbiamo pulito tutto tutto per bene e siamo certi che non c'è più nulla andiamo a mettere il nostro filtro ancora all'interno e andiamo a rimontarlo facendo logicamente l'operazione contraria quindi andremo a avvitare in senso anti orario e poi dopo alla fine andiamo a serrare un poco con la nostra pinza a pappagallo eccolo qua un paio di mezzi giri due tre giri basta eccolo qui adesso dovrebbe funzionare come vedete non spruzza più da nessuna parte abbiamo risolto il problema con un semplice fai da te come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù spolliciate se avete ritenuto utile questo video e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale ciao alla prossima